Primo giorno a Potenza per Antonio Nocerino, il nuovo allenatore della Primavera e coordinatore della metodologia del settore giovanile del club Lucano, è arrivato ieri mattina nel ritiro della prima squadra in corso a rifreddo di Pignola per poi recarsi subito sul campo del Principe di Piemonte a Potenza dove ha seguito l'allenamento dell'Under 17. Nocerino che nel corso della sua lunga carriera da calciatore ha vestito oltre la maglia della nazionale italiana anche quella di Juve, Milan, Torino, Parma, West Ham. Dopo l'esperienza negli States come tecnico delle giovanili dell'Orlando City torna in Italia nel capologo Lucano dove da quest'anno seguirà i leoncini rosso-blu. Mister benvenuto, oggi inizia ufficialmente questa tua avventura a Potenza. Grazie, grazie mille, sì sono contento, bella opportunità e grande voglia perché è un'opportunità importante, bella. Penso che i giovani debbano essere una risorsa perché sono il futuro, il presente quindi è importante secondo me avere un occhio di riguardo per i giovani. Ma io l'unica cosa che chiedo è di non accontentarsi mai e di essere ambiziosi. Come si arriva a certi traguardi, traguardi che lei ha toccato direttamente con mano? Ma io su questo sorrido perché ovviamente tutti hanno un sogno che è quello di vestire una maglia importante, però purtroppo non tutti arrivano a realizzare questo sogno. Avere voglia, avere umiltà, voglia di imparare, voglia di crescere, ambizione.